Non andrò mai al governo con chi ha distrutto questo paese. Io voglio cancellare la legge Fornero, ridurre le tasse, spelleri i clandestini e riformare la scuola. Come faccio a farlo col PD? Che ci ha riempito di tasse, ci ha riempito di immigrati, ha difeso la legge Fornero e ha devastato il mondo della scuola. Escludo che la Lega non possa mai andare al governo col PD. O c'è un governo che può fare le cose seriamente rispettando il voto degli italiani, governo che parta dalla squadra del programma di centrodestra coinvolgendo i 5 Stelle, che scendano dal pedestallo e ci diano una mano a far ripartire l'Italia, oppure si torna a votare, non c'è più tempo da perdere.